Assessore Miriam Mignemi, intanto il suo nominativo da dove arriva? Allora, arriva ovviamente direttamente dalla sindaca, aveva già espresso questa volontà in passato e adesso si è concretizzata, quindi comunque io sono felice di collaborare e di poter fare qualcosa di buono per il mio paese che amo tantissimo. Mi sono sempre spesa per lo spettacolo e in generale anche per le altre deleghe che mi sono state assegnate, quindi spero vivamente di cuore di portare qualcosa di buono, una ventata d'aria fresca e un po' di spettacolo che ci vuole. Manca un anno e mezzo alla fine della legislatura, cosa riuscirà a fare in questo anno e mezzo? Allora, questo ancora non lo so, però sicuramente ci sono i buoni propositi e come in ogni cosa in cui mi impegno ci metterò tutta me stessa, ci metterò il cuore e tanta arte. Il suo nominativo viene sponsorizzato da qualche consigliere comunale? No, arriva direttamente dalla sindaca Anna Alba e l'ho accolto con felicità, quindi speriamo nel bene di riuscire a concludere questo anno e mezzo nel migliore dei modi. Allora, fondamentalmente intanto voglio ringraziare il sindaco Alba per avermi dato questa possibilità, anche perché non è un periodo sicuramente semplice quello di approdare in questa nuova giunta, però cercheremo di metterci tutti noi stessi, tutto l'impegno anche con i nostri colleghi, li ho conosciuti giusto ieri, però sembriamo già una squadra abbastanza pronta per affrontare nuove avventure. La sindaca mi ha dato, mi ha delegato diverse deleghe, molto importanti, cercherò di espletarle nel modo più possibile congeniale a quelle che sono le esigenze sul territorio. fondamentale secondo me è quello di capire che noi siamo il comune, non tanto siamo degli operatori per il comune, affinché quella che è la richiesta dell'utente, del singolo cittadino, possa essere espletata attraverso la nostra presenza. Il suo nominativo arriva in questa amministrazione per una nomina diretta da parte del sindaco, ma perché è sponsorizzato da qualche consigliere o no? No, io mi sono avvicinata più volte al sindaco, cercando di chiederle se era possibile farmi fare questa bellissima esperienza. Spero che lei abbia riposto in me e non deluderla a quelle che sono le sue aspettative, non deluderla appunto. Quindi nessun consigliere dietro? No, no. Beh, innanzitutto voglio ringraziare la sindaca di avermi dato questa opportunità. Sicuramente metterò in campo tutte le mie competenze, le mie professionalità al servizio di tutta la comunità, consapevole delle problematiche che ci possono essere. Non appena avrò prontezza dei lavori e dei procedimenti in atto, quindi sia in corso d'opera sia ancora ad espletare, cercherò di dare il mio contributo in sinergia con tutte le forze politiche del Paese e anche quelle sociali, chiaramente. Quindi cercherò anche di predisporre tutti i banti possibili, ammissibili, dando precedenza chiaramente prima ai lavori di emergenza, ce ne sono tanti, e poi a tutte le altre tipologie di lavoro che possano migliorare le condizioni del nostro Paese. Il suo nominativo è un nominativo che è stato sponsorizzato da qualche consigliere comunale o arriva direttamente dalla sindaca, senza nessun intermediario? Assolutamente, arriva direttamente dalla sindaca, anche perché abbiamo collaborato per altre cose, soprattutto abbiamo fatto dei progetti europei e internazionali con la Polonia, nazione con cui io collaboro, quindi già ci conoscevamo, per cui è stato sponsorizzato direttamente dalla sindaca. Sindaco Alba, oggi quindi si chiude il cerchio della sua squadra. Sì, finalmente ci siamo, faremo la pubblicazione fra qualche minuto, dove indicheremo e completeremo la squadra. C'è un'aggiunta di un assessore in più, quindi secondo quanto predisposto alle leggi regionali, avevamo la possibilità di aumentare addirittura a sette, però secondo anche le nostre necessità ci siamo limitati a sei. Quindi in aggiunta ai nostri tre assessori, altre tre nuove figure, di cui due donne e un uomo. Prevale la quota rosa, ma non è questo a fare la differenza assolutamente. Il mio auspicio è, nell'anzitutto, farei un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che vanno a completare la mia squadra, che davvero stanno dando tanta energia anche in queste ultimissime ore e dal momento in cui col gruppo stampo abbiamo condiviso la notizia. Perché siamo allo step finale, siamo nella fase conclusiva della mia amministrazione e mi auguro che, grazie anche al loro contributo, possiamo arrivare alla fine di questo mandato in maniera molto serena. Perché abbiamo recentissimamente avuto il decreto di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, che rappresenta la chiave di volta per poter iniziare l'azione di risanamento del nostro comune e spero che, grazie al loro contributo, l'azione di risanamento possa continuare e che ci possa permettere di lavorare per il meglio della nostra comunità. Abbiamo chiesto agli assessori se sono stati individuati, consigliati, sponsorizzati da altri consiglieri comunali, ma hanno risposto negativamente. Ci hanno detto che sono tutti frutto di una sua scelta personale. Il pensiero va al Consiglio Comunale e ai numeri. Come potrà governare Anna Alba in questa maniera? Lo vedremo mercoledì prossimo perché avremo il primo Consiglio Comunale con la nuova giunta. Sono tutte persone che sono state più o meno vicine alla mia persona, quindi persone di cui ho una profonda stima e sono state scelte appunto per questo. Non è stato facile perché entrare in una macchina in corsa è davvero complicato. Anche loro inizialmente hanno avuto qualche elemento di titubanza, ma c'è già una squadra che li aiuterà così come abbiamo sempre fatto. Perché sarò ripetitiva, ma la cosa importante è lavorare per il meglio della nostra comunità, proprio perché siamo alla fine e siamo quasi a un passo del raccogliere i tanti frutti che abbiamo seminato nel corso di questi tre anni.